Grandi produttori, erano Franco Cristaldi che poi addirittura tentava di vincere in un mondo soltanto con le idee, e con delle idee molto difficili, non con delle idee che assecondavano il trend di quello che il pubblico voleva in quel momento, no, con delle idee a contrasto. Cercare di creare nuovi... L'avventura era la base, perché era il rischio quasi totale di queste cose. A fronte di questi c'erano invece poi, diciamo così, degli avventurieri, invece che dei principi dell'avventura, i quali erano capaci di qualsiasi cosa, cioè erano capaci appunto di dire fammi causa, come se io c'è un contratto, diciamo, beh io non te lo pago, tu mi fai causa. Cinque anni di tempo. In realtà c'era un'altra componente avventurosa, che era invece molto bella, era anche questo desiderio, questa capacità, questo coraggio di andare a cercare soluzioni. Cercare? Cercare soluzioni, di andare a cercare soluzioni produttive, coproduttive, di andarsi a inventare cose. Abbiamo inventato un modo di fare cinema al quale gli americani si sono ispirati, cioè dando prova di modestia e intelligenza superiore alla nostra. Si sono ispirati, l'hanno studiato, l'hanno capito, l'hanno assorbito e ce l'hanno riproposto facendoci due occhi così, come si dice. Il personaggio forse più, in un certo senso, più divertente e più fantasioso che io abbia conosciuto e che si inventava sul nulla, qualsiasi cosa, era Sergio Corbucci. Ho vissuto un'esperienza straordinaria con lui, in qualità di suo agente. Un giorno passò dall'ufficio, venne da me e mi disse, senti, andiamo, andiamo, corriamo, dobbiamo andare a Lilton. Dice, perché c'è questo gruppo di americani che sono pieni di soldi, che vogliono fare un film. E dico, ma che dobbiamo fare? Dice, beh, chiudiamo l'accordo. Dico, ma l'accordo su che cosa? Dice, sul film. Dico, ma che film è? E dice, beh, adesso vediamo, in macchina. E andammo a Lilton dove c'erano questi tre americani con nomi italioti, che in fondo erano probabilmente degli emigrati, prima da Pittsburgh, i quali avevano fatto i soldi gli volevano tornare in Italia a tentare di fare qualche cosa, gli piaceva questa cosa qui, avevano una suite gigantesca. E Sergio con loro aveva parlato già un paio di volte al telefono, Sergio poi aveva una straordinaria capacità, lui parlava inglese e se la cavava, però lo parlava con una tale arroganza che se gli interlocutori inglesi e americani non capivano, pensavano che era colpa loro che non avevano capito, non è che gli veniva in mente che Sergio gli aveva detto una cosa che non stava nel cielo interno. e allora quando arriviamo ci fu una serie di pacche sulle spalle pazzesche, dopodiché questi dice, allora hai pensato al film che facciamo? Dice sì, è pronto, disse Sergio. Io l'ascoltavo, non potevo fare altro e Sergio gli disse, guarda, stanno già scrivendo, praticamente l'asseniatura sarà pronta fra una settimana o due, però ti voglio dire perché l'idea è proprio bella e straordinaria. C'è un western e Sergio raccontò la storia di questo grande proprietario terriero messicano che era morto in circostanze misteriose e il fratello di questo grande proprietario terriero aveva poi in un certo senso quasi ereditato tutto quello che aveva il morto e fra le altre cose aveva ereditato la moglie, cioè aveva anche risposato in seconde nozze la moglie del fratello che era morto. Ora questa donna e il morto avevano originato un figlio che aveva 22-23 anni e che era uno straordinario pistolero, il quale però non era convinto della morte del padre e voleva indagare su questa cosa. L'hamletto. Esattamente. Cioè gli ha raccontato l'hamletto in western. Pensa che è straordinaria. E quando alla fine questi hanno detto ma che bello perché alla fine invece finisce che l'hamletto fa i duelli con tutti e ammazza tutti. Certo. Differenza. Quando alla fine questi gli esori ci hai pensato a un titolo, lui non esitò un secondo e disse Johnny Hamlet. Cioè gli diede anche, voglio dire, non gli poteva neanche dire, dice sai ci hai fregato, ci hai raccontato una cosa. Gli lo disse, c'è Johnny Hamlet. Facemmo il contratto per fare Johnny Hamlet che un'ora prima non esisteva.